Ciao, in questo tutorial vi mostrerò come realizzare il punto basso all'ucinetto. Con l'ucinetto andate ad inserire l'ucinetto nella prima catinella. Prendete il filo ed uscite. Abbiamo così due punti sull'ucinetto. Prendete il filo ed andate ad inserire il filo nei due punti che avete fatto. Con l'ucinetto entrate nel punto catenella. Prendete il filo ed uscite. Abbiamo così due punti. Prendete il filo ed entrate nei due punti. Stiamo così formando il punto basso. Entriamo nel punto catenella successivo. Prendete il filo ed uscite. Abbiamo così due punti sull'ucinetto. Con l'ucinetto inseriamo il filo ed entriamo nei due punti. Questo è il punto basso. Dobbiamo proseguire così entrando sempre nei punti catenella che abbiamo eseguito. Quindi. No. 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 Grazie a tutti. Il tutorial è così terminato, al prossimo tutorial, ciao!